allora passiamo adesso al segno dei gemelli stiamo facendo l'esercizio della luce dell'ombra quindi partiamo dalle caratteristiche in ombra e vediamo come cosa possono diventare nel momento in cui vengono trasformate in luce vi ricordo che alla base di questo esercizio che stiamo facendo segno per segno c'è una credenza importantissima che è quella che non esistono segni negativi ma che tutti i segni hanno le due facce della medaglia quindi anche per i gemelli andiamo a vedere prima qual è l'espressione meno evoluta quella più in ombra e poi vediamo qual è l'espressione più evoluta mi raccomando non guardate solo il segno del sole il segno solare se lo conoscete guardate anche il vostro il segno ascendente e se sapete qualcosa in più guardate anche se nel vostro tema c'è un segno dove sono si trovano più pianeti e non soltanto uno magari o due ma se ci sono per esempio tre pianeti potrebbe essere un segno importante anche se quei tre pianeti non sono nel sole nella luna anche la luna potete guardare se siete bravi che sapete tutte queste cose guardate tutto quindi passiamo al gemelli allora il gemelli quando non è vissuta come energia in maniera evoluta quindi in ombra è una persona curiosa però molto superficiale che salta di fiore in fiore vuole conoscere un po di tutto ma non è esperto di niente è un po un tuttofare magari che pensa o crede o racconta di saper fare qualsiasi cosa ma poi alla fine non è specializzato in niente e quindi alla fine salta un po troppo oppure apre mille conversazioni ma non ne chiude una è molto socievole però a quella per esempio sono le persone come esempio non è che siano tutti dei gemelli quelli che lo fanno ma che arrivano a una festa salutano tutti ciao ciao ti vedo dopo e già passano alla persona successiva ciao ciao poi ti racconto dopo e poi ti parlo dopo però non concludono un discorso con nessuno alla fine hanno salutato tutti hanno detto due parole con tutti ma non hanno approfondito niente quindi questa è un po l'energia del gemelli vissuta in ombra quindi possono essere visti come superficiali come chiacchieroni come dispersivi ma chiaramente c'è una qualità forte nell'energia dei gemelli quando viene accesa la luce quindi se questa curiosità questa capacità di spostarsi rapidamente da un argomento all'altro viene illuminata può diventare una grandissima abilità comunicativa anche qui c'è bisogno come abbiamo detto per la riete però di partire da un rallentamento perché il fuoco e l'aria sapete sono maschili e hanno una tendenza all'azione no sono sono elementi che portano ad agire prima di pensare ma il gemelli è comunque collegato a mercurio quindi al pianeta della mente razionale e quindi se si riesce a trasformare quell'energia un po vorace di tante informazioni in una competenza un pochino più stabile possono diventare grandi giornalisti insegnanti avere abilità di mentali comunicative diventare carismatici perché sono capaci di comunicare possono essere molto furbi che è anche una qualità in luce basta che non sia vista come furbizia scapita degli altri furbi nel senso che trovano sempre una soluzione che hanno sempre la capacità di superare un problema guardando avanti e poi sviluppano sicuramente una capacità una scusate una grande sete di conoscenza di sapere e quindi possono veramente se la utilizzano in maniera luminosa diventare dei punti di riferimento per quello che riguarda le attività di comunicazione di conoscenza è proprio l'archetipo dello studente continuo il gemelli non smette mai di studiare studia tutta la vita ok vediamo se qualcuno di voi vuole scrivere scrivete come vi sentite a che punto vi sentite rispetto all'energia del gemelli se la vivete in ombro in luce se la sentite o no perché magari non avete dei grandi come dire segnali che sia importante per voi come energia questa eventualmente ascoltate poi anche le descrizioni degli altri segni per trovare i segni invece in cui voi avete il compito evolutivo di evolvere di più e di lavorare di più per trasformare l'ombra in luce grazie a tutti grazie a tutti